allora valvola gas per caldaie e scaldini ci sono alcune valvole del gas che si possono regolare in manuale ti faccio vedere come si può fare allora la parte interna è relativa alla regolazione del minimo la parte esterna invece è la regolazione del massimo allora ti faccio vedere qui del video ecco inserisco il giravite nella parte interna la vita la mettiamo la parte interna e abitando in senso orario andiamo ad aumentare il minimo e svitando in senso anti orario lo regoliamo diciamo gli diamo meno pressione la stessa cosa fosse il massimo la parte esterna con una pinza una chiave abitando si aumenta la pressione svitando si diminuisce la pressione la pressione del minimo serve quando la caldaia raggiunge una certa temperatura e quindi non ha bisogno di una fiamma alta e ha bisogno del minimo che sia costante quindi a volte il minimo non lo regge perché troppo basso quindi bisogna regolarlo spero questo video ci sia stato utile è un video un po tecnico per i tecnici